Stabatate, doloroso. Lettura del Vangelo secondo Giovanni In quel tempo, il Signore Gesù giunse a una città della Samaria chiamata Sicar, vicino al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunse una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù, dammi da bere. I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice, Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? I giudei, infatti, non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le risponde, Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Gli dice la donna, Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo. Da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame? Gesù le risponde, Signore, gli dice la donna, Dammi quest'acqua perché io non abbia più sete e non continuo a venire qui ad attingere acqua. Le dice, Va a chiamare tuo marito e ritorna qui. Gli risponde la donna, Io non ho marito. Le dice Gesù, Hai detto bene, Io non ho marito. Infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero. Gli replica la donna, Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte. Voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le dice, Credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il padre. Voi adorate ciò che non conoscete. Noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui veri adoratori adoreranno il padre in spirito e verità. Così infatti il padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Gli rispose la donna, So che deve venire il Messia chiamato Cristo. Quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa. Le dice Gesù, Sono io che parlo con te. In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse, Che cosa cerchi o di che cosa parli con lei? La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente, Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia lui il Cristo. Uscirono dalla città e andavano da lui. Intanto i discepoli lo pregavano, Rabbì, mangia. Ma egli rispose loro, Io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. E i discepoli si domandavano l'un l'altro, Qualcuno li ha portato forse da mangiare? Gesù disse loro, Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Voi non dite forse, Ancora quattro mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico, Alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In questo, infatti, si dimostra vero il proverbio, Uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Molti samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna, che testimoniava, Mi ha detto tutto quello che ho fatto, e quando i samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro ed egli rimase là due giorni. Molti di più credettero per la sua parola e alla donna dicevano, Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo. Pace bene, amici. Ben ritrovati in questa domenica seconda di Quaresima. Il Vangelo di oggi ci presenta l'episodio del dialogo, dell'incontro tra Gesù e la Samaritana. Gesù è stanco, ha camminato in quella terra polverosa e desertica della Samaria. finalmente a mezzogiorno, l'ora è tarda, è l'ora più calda della giornata, si siede stanco al pozzo e incontra una donna samaritana che va ad attingere acqua e la interpella, prende l'iniziativa, meravigliando la stessa donna, la quale chiede al Signore, ma come mai tu che sei giudeo e sei un maestro, sei un rabbino, chiedi e interpelli, parli con me che sono una donna, una donna samaritana. Da tenere presente che anche i rabbini non potevano parlare con nessuna donna per strada, nemmeno con la propria moglie, soltanto in casa, nel privato, si poteva discutere, dialogare con una donna. Quindi la meraviglia di questa donna samaritana è più che giustificata. Questo è un particolare, un contesto da tenere presente. Poi, quello che suscita interesse è il dialogo, lo stile, la modalità con cui Gesù procede nel suo parlare con la samaritana. Innanzitutto le chiede di dargli da bere, lei si preoccupa, come mai tu che sei, chiedi da bere, perché, non perché, non spiega, non dà una motivazione umana a Gesù, ma porta sempre il discorso, allarga sempre il discorso e lo porta su un gradino spirituale. Dice, se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti chiede questo, io sono in grado di darti un'acqua che disseta per la vita eterna. E la donna ancora chiede, rimanendo dentro la concretezza, la pura materialità, ma come fai tu, che non hai nemmeno un'anfora, un recipiente che deve essere per forza utilizzato se vuoi attingere acqua, come fai a darmi di quest'acqua? E Gesù procede ancora, a un certo punto, dà una svolta a questo dialogo, chiedendo alla samaritana, vai a chiamare il tuo marito, io non ho mariti, e su questo hai detto bene, perché ne hai avuti cinque, cinque uomini, e quello con cui ti ritrovi a condividere la vita adesso non è nemmeno tuo marito. La donna intuisce, capisce, avverte che c'è un personaggio un po' misterioso, allora porta il discorso su un piano teologico, qualcosa sapeva, tanto sapeva questa donna, e chiede a Gesù, ma come mai voi giudei dite che bisogna adorare Dio a Gerusalemme e noi invece diciamo che dobbiamo adorarlo qui? E il Signore risponda, stavolta in un modo puntuale, appropriato, tenendo il passo, tenendo il discorso con la samaritana. Adesso viene il momento, è già giunto, in cui i veri adoratori, gli adoratori dell'unico vero Dio saranno adoratori in spirito e verità, perché Dio vuole tali adoratori. La donna ancora prosegue, intuisce ancora più profondamente che questo personaggio, di cui non conosce nemmeno il nome, si presenta non solo come interessante, ma anche come un profeta, come qualcuno che ha da, che potrebbe avere dei valori, dei segreti da svelare. E allora chiede al Signore sappiamo che deve venire il Messia e Gesù risponde si rivela come tale, sono io il Messia. Ecco, è interessante, dicevo, evidenziare quello che è lo stile, il modo di procedere di Gesù nel dialogo con questa persona che si trova magari ad aver sete, ma di un amore che non la soddisfia pienamente. Sei uomini e probabilmente non è ancora soddisfatta. Gesù porge a lei la possibilità di un'acqua zampillante per la vita eterna. Si rivela, si autorivela. Gesù prende questa persona, questa samaritana, si abbassa dentro la situazione in cui viene a trovarsi, dialogo con lei facendosi, mettendosi alla pari e poi pian piano, pian piano, passo dopo passo la porta a delle considerazioni, a delle riflessioni spirituali al punto tale che questa donna lasciali la brocca, torna indietro nel suo villaggio, nella sua città e dice, urla forse, probabilmente a tutti quanti venite a vedere questo uomo che mi ha detto tutto quello che io ho fatto, non sarà forse lui il Messia? Non è ancora perfettamente, completamente convinta, ma si insinua dentro questo pensiero. Gesù si rivela, lei accoglie questa rivelazione, la va a comunicare a tutti quanti. Ecco, è importante che noi in questo cammino quaresimale, partendo da dove siamo, perché il Signore prendendoci per mano, parte con noi in questo cammino penitenziale, adattandosi alla nostra situazione, entrando dentro la nostra vita, da questo punto di partenza dove noi adesso ci ritroviamo e ci conduce allettamente a camminare, a fare un cammino, un percorso spirituale, per riuscire a vivere bene, meglio, nell'anno scorso, di dieci anni fa, il mistero pasquale. E allora consegniamoci al Signore che viene a chiederci da bere, Lui assettato nel nostro cuore, è consapevole, è convinto che soltanto ascoltando la Sua parola noi saremmo saziati, soltanto con Lui saremmo contenti qua giù sulla faccia della terra. Pace bene amici, a risentirci alla prossima domenica. Stavata, Lui, Dolorotu, Grazie a tutti.